Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di informazioni adeguate. La direttiva dell'Unione Europea numero 24 del 2011 ha riconosciuto ed esteso il diritto di cura negli altri stati dell'Unione. È possibile informarsi presso le aziende sanitarie sulle autorizzazioni e i limiti del servizio. Tutti i malati hanno dei diritti. Ottenerne il rispetto è un dovere, non un beneficio. Cittadinanza Attiva, Active Citizenship Network, ha realizzato la Carta Europea dei diritti del malato.